Basta promesse e rassicurazioni. È arrivato il momento di dare risposte concrete ai cittadini dell'Alto Molise. Bisogna chiudere al più presto la storia infinita della diga di Chiauci e mettersi all'opera affinché i giovani possano crearsi opportunità di lavoro a casa propria. Questo in sintesi il messaggio lanciato a Chiauci durante un incontro con i vertici del Consorzio Bonifica Sud di Vasto, organizzato proprio per fare il punto sullo stato dell'avanzamento dei lavori del bacino artificiale. La gente stanca dei continui sfregge al territorio, è stato detto, mentre gli interventi indispensabili per il totale riempimento dell'invaso vanno avanti a fatica. Il passato è stato amministrato in maniera grottesca, io la definisco così perché è impensabile, mi ripeto, che 120 milioni e 40 anni il lago sta ancora nelle condizioni in cui è visibile a tutti e questo non è giusto. Questo lago era stato programmato per creare sviluppo, sostenibilità, integrazione, lavoro. Tutto ciò non si è verificato perché nel corso degli anni ci sono stati ritardi, certamente non imputabili all'amministrazione, anche perché valiamo poco in termini di voto, questo lo devo dire perché è così. Purtroppo la politica tiene conto dei voti e quindi si esprime molto più favorevolmente nei confronti di quelle comunità che hanno un buon numero di voti. Durante l'incontro il presidente del Consorzio di Bonifica Vastese, Franco Amicone, ha annunciato l'assegnazione dell'appalto dei lavori previsti per portare la capienza dell'invaso da 3 milioni e mezzo a 7 milioni di metri cubi d'acqua, ma soprattutto ha assicurato che al termine di questo intervento i paesi della zona saranno ristorati. Abbiamo appaltato tutta la parte abruzzese del masterplan per 15 milioni, abbiamo già consegnato un lotto che è la sistemazione del fiume a valle, stiamo per consegnare ed aprire i candieri per l'ammasso roccioso e per il completamento della strada circomo la quale sinistra. Questi lavori vengono poi seguiti dall'appalto che stiamo per aggiudicare dei 4 milioni per l'intervento sulle paratoie e comunque arrivare al vero completamento della dica di Chiauci da cui possiamo partire anche per ragionare come fare un progetto di sviluppo e arrivare anche ai ristori che necessariamente bisogna dare alle popolazioni e al territorio interessato.